Pericolo scampato lungo la regionale 203 a Vallazza, frazione di Alleghe dove intorno alle 7.50 un grosso masso è piombato in strada attraversandola e arrestando la propria corsa all'alto della carreggiata. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e personale di Veneto Strade. Potrebbe darsi che sia questo qua e che non ci sia altro pericolo ma quanto potrebbe essere una parte di roccia franosa che è molto pericolosa per la strada. Non dimentichiamo che qui c'è parecchio traffico, specialmente l'uno di mattina tutta la gente che va al lavoro sia che sale dalla Gorgaro, che scende. Per fortuna il masso, rotolato per decine di metri, non ha colpito nessuna auto né messe in pericolo persone.